E' a Gela che una storia alleato fine ha ancora una volta confermato lo spirito di abnegazione e attaccamento al dovere e ranzia di tutela per il cittadino dei carabinieri. E' la storia di un padre di un figlio di 32 anni diversamente abile, che dal padre 71enne riceve ogni cura e che non avendolo visto rientrare come sempre alle 18 dopo la consueta uscita pomeridiana, ha contattato le forze dell'ordine, chiamando il numero di emergenza unico europeo 112. Sono stati i carabinieri ad intervenire a verificare che all'anziano non fosse accaduto nulla. Contattato l'uomo che stava rientrando per portare la cena al figlio, ha raccontato dei problemi di salute del giovane, che soffre anche di crisi depressive. Così proprio uno dei carabinieri intervenuti ha ricontattato il ragazzo, rassicurandolo. Padre e figlio hanno poi ringraziato gli uomini dell'arma per l'interesse e la sensibilità dimostrate in un momento di difficoltà.